Ben trovati, apriamo questa nuova edizione del Tg Oristanese Stv News con la notizia del trasferimento dell'attitante Cesare Battisti nel carcere di Massima Sicurezza di Massama. Sono quindi cambiate le disposizioni iniziali del ministro della giustizia Alfonso Bonafede che in un primo momento aveva indirizzato l'ex terrorista nel carcere di Rebibbia. Sentiamo. In prima battuta si era detto che l'ex terrorista catturato dalla polizia sarebbe dovuto restare nella penisola. Invece Cesare Battisti è già stato trasferito intorno alle 16.30 nel carcere di Massima Sicurezza di Massama. La decisione era stata annunciata dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede precisando che la casa circondariale Sarda garantirebbe maggiore sicurezza rispetto a quella di Rebibbia. Ma le prime voci di contestazione non si sono fatte attendere, soprattutto quelle di chi denuncia la forte carenza di organico che caratterizza Massama, il che andrebbe a collidere con le dichiarazioni del ministro. Intanto il latitante che per 40 anni è riuscito a sottrarsi alla giustizia ha dichiarato quasi beffardamente «ora so che andrò in prigione». Il ministro Salvini, che lo ha atteso all'aeroporto di Ciampino, ha detto che marcirà in carcere. Intanto sono partiti i calcoli per capire fra quanti anni Battisti, se si comporterà bene, potrà godere del primo permesso premio. Per adesso, dopo la consegna da parte del gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, lo attendono sei mesi di isolamento a Massama e l'ergastolo. Stamattina i carabinieri della compagnia di Oristano hanno eseguito due arresti nell'ambito di un'inchiesta per sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di una nota consulente oristanese e di un mediatore culturale di origine indiana. Il servizio. Sono stati resi noti i nomi dei due destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare emessi dalla compagnia dei carabinieri di Oristano nell'ambito dell'inchiesta seguita dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso, volta a bloccare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di una nota consulente della città, Esmeralda Trogu, e di Baywinder Kumar, mediatore culturale di origine indiana. Due anni di indagini hanno portato stamani all'arresto dei due con l'accusa di aver messo in piedi un'organizzazione dedita allo sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza illecita in Italia di stranieri irregolari. Esmeralda Trogu, 46 anni, in passato è stata responsabile per la Sardegna dell'Associazione Italiana di Assistenza al Consumatore Europeo e seguiva sempre nel ruolo di responsabile per la Sardegna e la Sicilia il network di consulenti aziendali d'Italia. Attualmente è impiegata negli uffici del patronato CAF FAPI nel complesso Cier che si trova nella Galleria Porcella. Quegli stessi uffici, che questa mattina sono stati chiusi al pubblico e ispezionati dagli agenti per acquisire materiale utili alle indagini coordinate dalla procura oristanese. Dalla conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio nel comando dei Carabinieri di Oristano è scaturito che i due arrestati, in cambio di 5.000 euro a persona, assicuravano agli immigrati il permesso di soggiorno attivando dei rapporti di lavoro all'insaputa delle 5 aziende coinvolte, ma ignare appunto dell'illecito. Sarebbe stato proprio il titolare di una di queste aziende, con sede a Riola, a far partire le indagini due anni fa dopo aver ricevuto dall'Inps la richiesta di pagamento dei contributi di un soggetto che non faceva effettivamente parte dei propri dipendenti. Ma cambiamo argomento. La scorsa notte alcune persone hanno profanato il tabernacolo della chiesa di Pardunou gettando le ostie consacrate in mezzo all'erba e forse asportandole. In una nota il parroco Don Diego Tenda si invita la comunità a disporsi in atteggiamento di preghiera partecipando domani alle ore 17 nella chiesa di Pardunou alla Santa Messe all'adorazione eucaristica in riparazione. Per questo motivo le messe nelle altre comunità non saranno celebrate. Cambiamo nuovamente argomento. Crescono le rapine nella città di Eleonora. Sentiamo i dettagli nel servizio. Che fine ha fatto signora sicurezza? Non si sa. Occhi elettronici e forze dell'ordine sempre all'opera eppure non tutto va per il verso giusto. Cresce infatti il numero delle rapine in città. Stavolta a far discutere lo scippo commesso ai danni di una parrucchiera. Triste episodio accaduto sabato 12 gennaio a Oristano. Secondo quanto si è preso un uomo col volto coperto in pugno una pistola forse uno scacciacani ha atteso l'uscita dell'ultima cliente dal salone gestito da Giovanna Zedda in via Rossini 12 ed è entrato in azione intorno alle 20. Il rapinatore ha puntato la pistola contro Zedda, l'unica rimasta. A quel punto la signora non ha avuto scelta, ha preso la borsa dove aveva i soldi e gliel'ha consegnata. Dentro c'era un migliaio di euro, frutto degli ultimi giorni. A quel punto il rapinatore ha rimesso l'arma in tasca e ha fatto pochi passi prima di andare via salendo probabilmente in sela ad una bicicletta. Zedda ha trovato il coraggio di uscire fuori dal suo locale e fare qualche passo per rincorrere il rapinatore solitario ma non ha fatto in tempo a raggiungerlo. A quel punto le è rimasto poco altro da fare se non chiamare la polizia di Ristano che è immediatamente intervenuta. Le ricerche del rapinatore sono iniziate dopo la denuncia presentata dalla signora Zedda. La rapina segue quella del 7 dicembre scorso che sempre nella zona di San Paolo era stata portata a termine ai danni dell'edicola di via Lombardia. Anche allora era stato un rapinatore solitario ad entrare in azione. Sono in tutto tre gli incendi divampati nei giorni scorsi nell'oristanese. Sentiamo il servizio. In tutto tre le tragedie sfiorate, la prima a Ristano, la seconda a San Veromilis e la terza a Narbolia. Venerdì 11 gennaio, prima delle ore 22, le fiamme hanno distrutto una veranda in un palazzo di via Toscarini nel quartiere di San Nicola a Ristano. Serebbe stata una bombola a innescare il pericoloso rogo, innescato da un'esplosione avvenuta nell'ambiente saturo di gas. La situazione di pericolo ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Ristano che hanno fatto evacuare l'intera palazzina, portato via due bombole dall'edificio ed evitato che le fiamme si propagassero all'appartamento. Per fortuna nessun ferito, numerosi danni provocati dal rogo. Sempre venerdì 11 gennaio i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a San Veromilis per un incendio alla canna fumaria di un'abitazione che aveva intaccato anche il tetto. In questo caso l'origine delle fiamme, spigionatesi dal camino, è da ricercare nella non corretta pulizia della canna fumaria. Domenica 13 gennaio i pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha danneggiato un'abitazione a Narbolia. Una squadra di pronto intervento è giunta sul posto e ha messo in sicurezza la zona. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Il consigliere di minoranza Pepe Puddu, insieme ai colleghi all'opposizione, ha presentato una proposta alla Giunta che prevede lo spostamento temporaneo dei commercianti del mercato civico, attualmente in via Cimarosa, in quello invece di via Costa. Sentiamo. In attesa che si sblocchi la situazione del mercato civico di via Mazzini, i commercianti potrebbero essere trasferiti nel mercato di via Costa, così l'amministrazione potrebbe risparmiare sugli affitti per i locali di via Cimarosa. E' questa la proposta presentata dal consigliere di opposizione di Oristano Pepe Puddu dopo aver constatato che i lavori per la ristrutturazione dello stabile di via Mazzini non cennano a partire. Il trasferimento del mercato nei locali di via Cimarosa sta costando al comune più di 100.000 euro all'anno, denuncia Puddu, insieme agli altri consiglieri di opposizione. Si tratta di grosse cifre se si considera che il primo appalto dei lavori è stato fatto nel 2015. A oggi, la rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice non permette un'accelere ripresa dei lavori, ecco perché la minoranza trova che il trasferimento di tutti i commercianti nei locali di via Costa possa essere una soluzione da prendere seriamente in considerazione. Ora la parola va al sindaco Andrea Luzzo. E ora un approfondimento di Paolo De Zogus sulle pensioni pubbliche. Tempo di chiedere all'Inps, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la riliquidazione per motivi contributivi della propria pensione e del trattamento di fine servizio. Attraverso una sua nota, la FNP CISL spiega che ad essere interessati sono i pensionati provenienti dai comparti della sanità, enti locali, Stato, Scuola Statale, l'alta formazione artistica, Affam e i post telegrafonici ex i posto, istituto passato all'Inpes. Il sindacato precisa che il patronato Inas, che ad Oristano ha sede nel Palazzo Sotico di Piazza Roma, invierà una lettera agli interessati, invitandoli a presentarsi nelle proprie sedi per l'inoltro della domanda di riliquidazione della pensione. Una misura spiega ancora la Federazione Pensionati che discende dall'applicazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono la retrodatazione dal 2 gennaio 2016 per le categorie indicate, mentre per i pensionati ex i posto la retrodatazione scatta dal 2 febbraio 2018. Da questa mattina e per tutta la settimana i militanti del Movimento 5 Stelle sono impegnati ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 per la raccolta delle firme che permetteranno al Movimento 5 Stelle di presentarsi alle elezioni regionali. Vediamo. Tira sempre più forte l'area di voto e circola già una data, 24 febbraio. Da questa mattina e per tutta la settimana i militanti del Movimento 5 Stelle sono impegnati ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 in piazza Roma-Auristano per la raccolta delle firme che consentiranno al partito di presentarsi alle elezioni regionali. La legge elettorale Sarda infatti afferma che chi si presenta alle competizioni regionali per la prima volta deve raccogliere le firme. Per Auristano ne servono 600. Stamattina abbiamo intervistato la deputata auristanese del Movimento, Lucia Scanu. Oggi siamo qui per raccogliere le firme proprio perché noi non avendo nessuno nel Consiglio regionale dobbiamo per forza raccogliere il minimo 500 firme in modo tale da certificare la lista. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta delle firme e chiediamo nuovamente, quindi facciamo nuovamente un appello per tutti i cittadini che ci daranno una mano appunto a raccogliere questa importante raccolta firme. È iniziata ieri, 13 gennaio, la raccolta delle firme, giusto? Esatto, è iniziata proprio ieri e continuerà per tutta la settimana in modo tale da avere la possibilità di ricevere tutte le firme per completare la raccolta. Quante persone già si sono vicine? Avete già un numero? Ci avete parlato? I cittadini vi hanno chiesto? Sì, i cittadini sono molto curiosi vogliono sapere, cercano di partecipare al Movimento 5 Stelle quindi ci stanno dando un forte supporto. Più o meno siamo arrivati a circa un centinaio se non sbaglio, adesso dovrei chiedere agli altri ragazzi che ci stanno dando una mano però ho visto una forte partecipazione si vede proprio la voglia di darci una mano e questo è molto importante. Abbiamo già redatto il programma regionale stiamo completando gli ultimi piccoli accorgimenti però abbiamo già un ottimo programma che presenteremo al più presto con tutti i nostri candidati della regione appunto. Per Oristano? Per Oristano ci sarà un ottimo programma anche per quello infatti i nostri candidati proprio della nostra circoscrizione ci stanno dando una mano a perfezionarlo perché ovviamente ogni territorio ha delle problematiche diverse presto avremo la possibilità di ascoltare anche i nostri candidati che ci spiegheranno perfettamente quelli che sono tutti i passi da seguire. Fino a quando durerà la raccolta delle firme? Allora probabilmente durerà verso venerdì sabato venerdì barra sabato perché se riusciamo a finire la raccolta delle 500 firme in un tempo minore anticiperemo però diciamo che è prevista intorno a quella data entro sabato. Barigadu e Wilcher alleati per un futuro migliore sentiamo il punto di Paolo Desogus In gran parte sono convinti che ci sarà sviluppo e che si tratta di interventi e misure finalizzate ad arrestare anche lo spopolamento. Le speranze sono dei 18 sindaci del Barigadu e del Wilcher quelli che direttamente o indirettamente gravitano intorno al Lago Modeo le statali 131, 131 bis, la 388 e l'asse ferroviario con scalo ad Abbasanta Le due aree hanno messo insieme una pluralità di progetti da attivare anche con il concorso di privati operatori per i quali la Regione ha garantito un sostegno finanziario pari a 11 milioni di euro percorso e metodologie non si discostano e sono pressoché identiche a quelle dei PIA i Piani Integrati d'Area tenuti a battesimo a metà degli anni 90 unitamente al Patto Territoriale e successivamente al Patto Tarros per lo sviluppo dell'agricoltura e la pesca questi ultimi finanziati dall'Unione Europea Magna è stata fatta un'analisi critica sui risultati prodotti di queste misure con la classe politica locale che ha preferito da subito inseguire nuove chimere come la progettazione integrata e le intese istituzionali che nei primi anni del 2000 divennero il nuovo faro della programmazione economica in quell'area geografica dopo l'infausta esperienza del Galterre di Ciardana i comuni con i nuovi organi di rappresentanza locale ripartono pieni di speranze con piani e progetti interessanti giacimenti archeologici, musei, itinerari turistici e fluviali, parchi, accoglienza, riqualificazioni di aree e interventi in strutture sociali e dello sport meccanismo complesso la cui esecuzione richiederà un coordinamento definito e di riconosciuto livello C'è stato un cambio nei turni notturni per le farmacie dell'Alto Oristanese mercoledì 16 gennaio il turno inizialmente previsto per la farmacia di Ardauli verrà effettuato da quella di Norbello viceversa giovedì 17 gennaio il turno notturno che in base al calendario avrebbe dovuto essere garantito dalla farmacia di Norbello sarà invece coperto da quella di Ardauli durante la giornata di domenica più di 60 volontari si sono radunati per le ricerche del signore scomparso a Gonno Scodina si tratta di Edmondo Azzori non c'è stato però nessun buon risultato l'uomo infatti ancora non si trova sentiamo le ricerche ufficiali erano state bloccate la scorsa settimana ma da subito si era detto che i volontari avrebbero continuato a darsi da fare per ritrovare Edmondo Azzori l'uomo di Tanca Marchesa che nella mattinata del 28 dicembre si era allontanato dalla casa di riposo di Gonno Scodina nella quale viveva da tre mesi e così è stato perché durante la giornata di domenica più di 60 persone divise in sei squadre si sono messe alla ricerca dell'anziano i volontari sono arrivati anche dai paesi vicini Simala, Uras, Terralba e Arborea ma purtroppo non c'è stato nessun esito positivo il signore Edmondo Azzori pare non aver lasciato nessuna traccia del suo passaggio nelle campagne circostanti il luogo della sua ultima residenza non è improbabile che qualcuno possa tentare l'intentato e nonostante siano ormai trascorsi 17 giorni dalla scomparsa speri in un miracoloso ritrovamento dell'anziano L'Associazione Mantenimento Diretto Movimento per l'uguaglianza genitoriale ha bandito un concorso che andrà a premiare le tesi di laurea che avranno come tema la cogenitorialità è prevista l'assegnazione di due premi del valore di 300 euro la scadenza per la presentazione delle domande è il 28 febbraio per maggiori informazioni ci si deve collegare al sito mantenimentodiretto.info Cambiamo nuovamente argomento perché l'Associazione Culturale Libriamoci di Cavras ha festeggiato il suo primo compleanno siamo andati a vedere Hanno festeggiato il primo anno di attività e lo hanno fatto con ciò che sanno fare meglio parlare di libri L'Associazione Culturale Libriamoci nata a Cavras grazie all'amore per la lettura di tre giovani donne sabato scorso ha organizzato un evento per celebrare un anno di presentazioni con autore laboratori per bambini riunioni fra soci davanti a un buon tè Madrina della serata Claudia Zedda la scrittrice cagliaritana che un anno fa inaugurò il ciclo di presentazioni con autore sabato ha raccontato la sua nuova creazione Gianasa un romanzo che prendendo spunto dal mito sardo delle Gianas parla di donne e del potere che esse possedevano già dai tempi più remoti a seguire il taglio del nastro della prima postazione di book sharing del paese locuzione che indica un modo particolare di scambiare libri chiunque d'ora in poi potrà avvicinarsi alla sedia azzurra dedicata ai testi posizionata nella piazza Juni del paese di Cabras prendere un libro e portarne uno proprio la novità sta nella restituzione che non è obbligatoria lo si potrebbe definire un prestito comunitario uno scambio dove chiunque può dare e ricevere Roberta Meli, Roberta Lippi e Paola Secci le fondatrici dell'associazione credono fermamente nel valore della cultura e questo è il modo con cui hanno scelto di metterlo in pratica Open Day all'Istituto d'Arte di Oristano il giorno 15 gennaio a partire dalle ore 9.30 fino alle 18 si potranno visitare le aule e fare delle esperienze pratiche tramite dei laboratori dedicati all'arte che saranno tenuti da ex studenti che hanno trasformato la propria passione in un vero e proprio lavoro Open Day anche all'Istituto Tecnico Otoca che è organizzato stavolta per sabato 19 gennaio sarà possibile visitare le aule, i laboratori e tutte le strutture dell'Istituto sabato 19 e domenica 20 gennaio invece a Ollastra si festeggerà la festa di San Sebastiano con la trentesima sagra delle fave e dei ceci organizzata dalla Proloco del Paese i festeggiamenti inizieranno sabato alle ore 16.30 con la sfilata dei carri per concludersi domenica con la serata folk era la nostra ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alla prossima edizione di TG Oristanese STV News Grazie a tutti